Un pazzo visionario un giorno in un'intervista ha detto che se avesse chiesto ai propri clienti cosa volevano gli avrebbero risposto un cavallo più veloce. Era Henry Ford. E questo cosa significa? Che a me piace la Mustang ma significa anche che i clienti non sanno quello che vogliono finché non sei proprio tu a farglielo capire. Ed è stato proprio così che Steve Jobs ha presentato l'iPhone e da allora ci ha cambiato la vita. Io non so se Steve Jobs ha cambiato il mondo ma di sicuro ha cambiato il nostro modo di vederlo e di viverlo il mondo. Sigla! Da allora le app mobile occupano esattamente l'89% del tempo che destiniamo all'utilizzo del cellulare cannibalizzando completamente le pagine web a cui invece dedichiamo soltanto il restante 11% del tempo. E da un'altra ricerca addirittura si vede che 9 persone su 10 utilizzano lo smartphone per i loro acquisti. Ecco quando è cambiato il marketing. Fino ad allora il marketing era basato sul prodotto e quindi c'era il carosello, c'era lo spot in radio, lo spot in tv e c'era lo slogan sulla carta stampata. Ed era pannaggio soltanto di quelle aziende che avevano le risorse sufficienti per approdare su questi strumenti pubblicitari. Certo non ero io e probabilmente nemmeno tu. E diciamoci anche la verità siamo in confidenza, non facciamo più i paraculo. Il marketing era anche uno strumento un po' fascista di comunicazione e di informazione perché era un monologo di queste aziende che avevano i soldi per potersi permettere di acquistare una vetrina fronte strada in centro città e si divertivano a infilzarci dei chiodi nella testa che erano i loro prodotti. Con l'avvento del web invece finalmente il marketing è diventato un po' più democratico. Questo perché da allora in autonomia ognuno di noi può scegliere le informazioni che preferisce. Chi l'ha detto? Google. Da una sua ricerca infatti si vede che ognuno di noi prima di effettuare un acquisto cerca almeno su 12 fonti di informazioni differenti. E da allora il web ha reso la pubblicità anche alla portata di tutti e non più soltanto a pannaggio di pochi. E quindi siamo arrivati al marketing 2.0 che ha portato a un vero e proprio bombardamento di informazioni e di messaggi pubblicitari che arrivano continuamente da tutte le parti. Ci sono i 6x3 per strada, ci sono le affissioni sui muri, ci sono i volantini, i pop-up pubblicitari, i banner sui siti, ancora ci sono le mail, eccetera. Praticamente un vero e proprio inquinamento di informazioni che ha spinto il consumatore a scegliere ormai in autonomia tutto ciò che ritiene più utile alle proprie esigenze e ai propri desideri. Customer Journey si chiama questo processo e inizia proprio con la raccolta di informazioni, prosegue con la valutazione e con la scelta per finire poi nell'acquisto. Da allora però siamo diventati anche vittime di tutto questo inquinamento sensoriale che crea anche indifferenza perché adesso ogni stimolo sembra invasivo. Quindi non soltanto è calata l'attenzione ma addirittura siamo diventati delle vere e proprie cinture nere per evitare le pubblicità. Siamo diventati dei veri e propri sensei nell'ergere delle barriere contro i messaggi pubblicitari. Vi faccio un esempio. Sfogliate una rivista qualunque, poi chiudete gli occhi e ricordatevi quante pubblicità avete visto. Dieci? Quindici? Perfetto. Ora vi chiedo di sfogliare la stessa rivista ma questa volta però attenti a contarle le pubblicità. Quante erano? Ottanta? Cento? E questo è quello che intendo. Il marketing è dovuto cambiare un'altra volta e così siamo approdati al marketing 3. Punto zero. Questa volta però il marketing è basato non più sui prodotti ma sui contenuti utili e pertinenti per attrarre, acquisire e coinvolgere. Come? Content is king. Questo è un riassunto breve, conciso e diretto che ci ha fatto addirittura in un suo famosissimo discorso Bill Gates. E prendiamolo come vangelo perché le persone oggi non comprano più prodotti e servizi ma comprano relazioni, comprano storie e comprano magia. Perciò se la tua promozione è ancora la storia dei tuoi prodotti e dei tuoi servizi mi dispiace perché può essere bella e colorata quanto vuoi ma rimane una normalissima e banalissima brochure. E invece meriti che la tua storia sia più grande. Pensa un po' all'Harley Davidson. Non è una moto, è il sogno di libertà, è il sogno di unicità con tutte quante le sue customizzazioni. Pensiamo ancora a Coca Cola, pensiamo a Campari, pensiamo ai Baci Perugina. Non sono cioccolatini, sono passioni, sono emozioni. I Baci Perugina sono sentimenti. È tutto qua. Non dite a mia madre che sono un pubblicitario. Lei mi crede ancora un pianista in un bordello. Lo so, anche io preferisco i libri stampati ma grazie a Kindle alcune chicche sono gratis come questa. Questo è il libro più bello penso di Jacques Seguela che era uno se non il pubblicitario più influente di sempre. Era un farmacista ma era visionario, era irriverente, era schietto, era diretto. E' uno che ha cambiato per sempre il marketing e soltanto perché ha gestito e ha trattato tutti quanti i suoi prodotti come fossero delle star di Hollywood. E racconta sempre una storia. All'angolo di una strada c'è un non vedente con un cartello attaccato al collo cieco dalla nascita ma non raccoglie molte offerte. Lo incontra andando al lavoro un pubblicitario che gli cambia la scritta sul cartello. Da quel momento le offerte diventano sempre più frequenti e sempre più importanti. Al ritorno dal lavoro della stessa giornata il pubblicitario incontra di nuovo questo non vedente che gli chiede ma cosa mi hai scritto sul cartello? E gli dice guarda il messaggio è lo stesso, soltanto ho raccontato la tua storia. Oggi è il primo giorno di primavera ma io non posso vederlo. Ciao 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 Ciao